Sarà una consulenza tecnica psichiatrica disposta dal giudice a stabilire se è limitata o meno la capacità di intendere di Giuseppe Pecoraro, imputato nell'omicidio del clochar Marcello Cimino, bruciato vivo a marzo scorso, mentre dormiva su un giaciglio di fortuna davanti al ricovero dei cappuccini a Palermo. La perizia è stata disposta dal giudice Maria Cristina Sala, davanti alla quale si svolge l'udienza preliminare. La difesa, che ha scelto il rito abbreviato condizionato, punta infatti sull'incapacità di intendere e di volere. Gli avvocati Carolina Varchi e Brigida Laimo hanno condizionato la scelta del rito, poi ammesso proprio all'ingresso nel processo delle consulenze psichiatriche e criminologica. Pecoraro, secondo la difesa, oltre ad una limitata capacità di intendere, avvertirebbe anche disagio antisociale. Arrestato dalla polizia, poche ore dopo il delitto e ripreso durante l'omicidio da una telecamera di videosorveglianza, ha confessato, raccontando agli inquirenti, di aver agito perché Cimino insidiava la sua compagna. L'assassino, separato, lavorava come impiegato in una stazione di servizio a pochi metri di distanza dalla struttura religiosa, che frequentava con regolarità, dividendo la mensa con altri ospiti e anche con l'uomo, che secondo le sue fantasie voleva portargli via la donna. Qualche sguardo di troppo da parte di Cimino avrebbe fatto scattare in Pecoraro la furia omicida. Papà non meritava questo, non hanno cuore le persone e chi l'ha ucciso deve fare la stessa fine, questo è il grido disperato di una delle figlie di Cimino. Il clochard aveva una casa in via Vincenzo Barone, nel villaggio Santa Rosalia, Palermo, ma aveva deciso comunque di vivere per strada. Era sempre pulito e ben vestito, racconta l'ex moglie di Olanda, hanno tolto un padre alle sue figlie, non faceva male a nessuno se non a se stesso, ogni tanto beveva ma nulla di più.